Musica Commessi sfruttati, pagati per 24 ore ma ne facevano 70, 4 arresti a Trapani. Spende 2000 euro dalla carta di credito di due pensionati, noto pregiudicato arrestato a Petrosino. Alfonso Tumbarello risponde al GIP, non sapevo fosse Matteo Messina Denaro. Sabato al palazzetto di Mazzara, in scena il derby Futsal-Mazzara-Marsala-Futsal. Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Teleotto, come sempre partiamo con la cronaca. Sfruttamento dei lavoratori, 4 arresti dalla Polizia di Stato. Sentiamo. Gli agenti della squadra mobile della questura di Trapani, con il supporto dei colleghi di Caltanissetta, hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della Procura della Repubblica di Trapani, che ha disposto gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico nei confronti di 4 persone accusate, a vario titolo, del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. È stata inoltre disposta la misura cautelare reale del controllo giudiziario dell'azienda con la nomina di un amministratore per la gestione. L'attività di indagine avviata nell'inverno scorso e supportata da sistemi di videoripresa a distanza e intercettazioni telefoniche, ha permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza in ordine a conclamate condizioni di sfruttamento dei lavoratori impiegati da una società con sede a Mussomeli, nell'allestimento del nuovo punto vendita di Trapani, poi inaugurato nella primavera scorsa. In sintesi, la società gestita da due fratelli di origine nissena, utilizzando fraudolentemente lo strumento della somministrazione di mano d'opera, avvalendosi di un'azienda di intermediazione, faceva sottoscrivere ai dipendenti contratti di lavori part-time che prevedevano 24 ore settimanali articolate su sei giorni lavorativi, per poi impiegarli a tempo pieno e ben oltre lo stesso orario ordinario previsto anche per contratti full-time. I dipendenti erano in sostanza costretti a lavorare in condizioni di estremo disagio per 10-11 ore giornaliere, per una retribuzione di circa 500 euro mensili, senza vedere assicurato in molti casi neanche il riposo settimanale. I lavoratori inoltre, a fronte del profilo per cui erano stati assunti, afferente l'area del commercio, venivano impiegati per mansioni assai diverse rispetto a quelle previste dal contratto, e in particolare come carpentieri, manovali, pittori, addetti alle pulizie e financo in servizi di guardiania notturna nella fase di allestimento della struttura. Alcuni lavoratori hanno anche riferito di essere stati sottoposti a condizioni di lavoro degradanti a causa delle gravi violazioni delle norme igienico-sanitarie sui luoghi di lavoro e ha reiterati comportamenti vessatori e offensivi posti in essere dai due imprenditori e da un loro collaboratore. Durante le attività investigative sono stati raccolti gravi indizi di colpevolezza anche nei confronti di due dipendenti della società. A carico del primo, addetto alla selezione e gestione del personale, sono stati raccolti gravi elementi indiziari circa il suo intervento nella sistemazione artefatta della documentazione amministrativo contabile del personale a partire dal reclutamento, all'assunzione e alla predisposizione delle buste paga. Il secondo collaboratore invece è risultato essere l'esecutore materiale delle direttive impartite dai due datori di lavoro nelle fasi di avvio dell'attività commerciale a Trapani assumendo atteggiamenti vessatori similari a quelli posti in essere dai titolari della società. Dalle investigazioni è emerso altresì che analoghi episodi di sfruttamento del lavoro da parte degli stessi indagati erano stati in precedenza commessi durante le fasi di apertura di un punto vendita a Castelvetrano avvenuta nel 2018. Era stata in passato presentata una denuncia anche da parte di un lavoratore del Nisseno dove sono presenti altri punti vendita della stessa società. Le indagini sono state supportate da attività ispettive e accertamenti tecnici a cura del nucleo ispettorato del lavoro dei carabinieri di Trapani sia per quanto riguarda il profilo delle violazioni in materia di sicurezza sul lavoro che per quanto riguarda le omissioni contributive. Una bimba di 20 mesi è stata portata all'ospedale dei bambini di Palermo dopo che ha ingerito marijuana. È il primo caso del 2023. I carabinieri hanno perquisito casa dei genitori che non hanno saputo spiegare come possa essere accaduto. La piccola, sottoposta alle cure, sta meglio come conferma l'ospedale. Nel 2022 si erano verificati 18 casi di bimbi finiti all'ospedale di Cristina dopo aver ingerito droga. La bimba si è sentita male mentre si trovava a casa dei dizzi. Sono intervenuti i militari della stazione di Brancaccio che hanno sentito i familiari e stanno cercando di ricostruire le responsabilità di quanto successo. Noto pregiudicato arrestato dai carabinieri di Petrosino, il servizio. I carabinieri della stazione di Petrosino diretti dalla Procura della Repubblica di Marsala hanno arrestato in esecuzione a un'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico emessa dal GIP del Tribunale di Marsala un pregiudicato di 36 anni. All'uomo, su cui già appendono due condanne definitive per reati contro il patrimonio, sono stati contestati diversi capi di imputazione, tra cui furti in abitazione, ricettazione di merce rubata e in debito utilizzo di carte di credito. Le indagini di Carabinieri e Procura, svolte attraverso analisi delle telecamere di videosorveglianza, escursione delle vittime e servizi di pedinamento in orari notturni, hanno consentito di ricostruire numerosi reati commessi dall'indagato in pochissimi mesi, spesso in concorso con soggetti rimasti al momento ignoti. La scorsa estate una coppia di pensionati aveva denunciato un furto presso la propria abitazione di Petrosino e la sottrazione di tutto il denaro contenuto in una carta di credito proveniente dalla loro unica pensione. Le indagini hanno permesso di individuare gravi indizi di colpevolezza a carico dell'arrestato che avrebbe speso i quasi 2.000 euro contenuti nella carta di credito degli anziani per fare acquisti di varia natura. Durante l'autunno un furto di gasolio all'interno di un'azienda agricola, il furto di un'auto ad un altro pensionato e la ricettazione di un'auto rubata sono stati ricondotti all'indagato, il quale peraltro avrebbe commesso i delitti guidando, nonostante la mancanza di patente, una macchina anch'essa proveniente da reato sulla quale custodiva Grimaldelli e vari arnesi atti allo scasso. Inoltre, l'11 dicembre scorso l'indagato avrebbe tentato di sottrarre armi da un'armeria del paese non riuscendovi solo perché il titolare si era accorto della presenza di ladri. La gravità degli indizi collezionati da carabinieri e procura a carico dell'indagato ha consentito al GIP di ordinarne l'arresto ai domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico. La Capitaneria di Porto di Trapani ha soccorso un marittimo di nazionalità filippina dell'equipaggio della nave mercantile Agia Valentina, battente bandiera Marshall Island, colto da dolori all'addome mentre si trovava in navigazione a 5 miglia nord-ovest del porto. Il comandante della nave partita dal porto di Beaya in Algeria nel corso della navigazione verso il porto turco di Cannacale ha chiesto soccorso per il marittimo. La motovedetta ha raggiunto la nave e ha prelevato l'uomo che è stato affidato al 118 che lo ha portato in ospedale. Chiamiamo argomento, ieri interrogatorio di garanzia per il dottor Alfonso Tumbarello che risponde ai GIP dicendo non sapevo fosse Matteo Messina Denaro. Sentiamo. Hanno risposto al GIP durante l'interrogatorio di garanzia Alfonso Tumbarello, medico di Campobello di Mazzara che aveva in cura il boss Messina Denaro e Andrea Bonafede, cugino e omonimo del geometra che ha prestato l'identità al padrino. I due sono stati arrestati tre giorni fa con le accuse rispettivamente di concorso esterno in associazione mafiosa e falso e favoreggiamento e procurata in osservanza della pena aggravati dall'avere favorito Cosa Nostra. Alfonso Tumbarello che in due anni ha seguito il capo mafia nel percorso di cure del cancro di cui soffriva prescrivendogli 137 tra ricette e analisi intestate al suo assistito Andrea Bonafede ha sostenuto di non avere mai sospettato che il vero paziente fosse un altro e cioè Messina Denaro. Il medico ha raccontato di aver appreso che a Bonafede era stato diagnosticato il tumore e di essersi limitato senza visitarlo a prescrivergli terapie e accertamenti che poi gli avrebbe fatto avere tramite il cugino. Ha anche affermato che il suo assistito aveva espresso il desiderio che non si sapesse della malattia, circostanza che ai suoi occhi spiegava certi suoi comportamenti tra i quali il fatto che non andasse personalmente allo studio. Tumbarello ha però ammesso di avere fatto da tramite tra l'ex sindaco di Castelvetrano, Vaccarino, e il fratello di Messina Denaro, Salvatore. Andrea Bonafede invece ha sostenuto di avere solo assecondato le richieste del cugino che diceva di essere gravemente ammalato e di avere fatto la spola tra lui e il medico per avere e consegnare i documenti sanitari necessari per le terapie. I viaggi di affari di Matteo Messina Denaro dalla Spagna all'Albania al centro delle indagini degli inquirenti in servizio. Viaggi e lunghe permanenze che come denominatore comune hanno la droga. Un business che, come quello delle scommesse clandestine, è in grado di portare fiumi di soldi liquidi, cioè il tesoro che serviva a mantenere un latitante con un tenore di vita altissimo. Si parla di 150 milioni l'anno. Se la penisola iberica è un paese che il capo mafia conosce fin dal 1994, quando si fece visitare al centro di oftalmologia Barracker di Barcellona, le piste che lo collocano in Tunisia e Albania sono molto più recenti. In entrambi i casi ad attirare il boss sarebbe stato il mercato degli stupefacenti e del contrabbando. E ormai ha accertato in più inchieste che quintali di tabacchi lavorati esteri arrivino in Sicilia dal Nord Africa, nascosti tra le casse di pesce trasportate dai pescherecci che attraversano il canale di Sicilia. In Albania Messina Denaro avrebbe mandato un ambasciatore, Luca Bellomo, marito della nipote Lorenza, per poi andare di persona per stringere, dicono gli investigatori, rapporti con esponenti delle istituzioni e dell'imprenditoria. Nell'ultimo viaggio avrebbe fatto anche una puntata in Montenegro per giocare al casino. Viaggi per affari dunque tutti da ricostruire anche alla ricerca del tesoro del boss finora non trovato, interrotti dalla diagnosi di cancro che secondo gli investigatori gli sarebbe stata fatta in Sicilia. Da allora la svolta, il rientro nel Trapanese a Campobello dove poteva godere di una rete sicura di favoreggiatori, ma non solo, il boss avrebbe scelto di morire vicino alla sua famiglia come fece suo padre e di trascorrere gli ultimi anni allentando la maniacale cautela del passato, le cene, le amiche, gli spostamenti per recuperare la vita persa fino ad allora e forse nella convinzione che nessuno avrebbe sospettato che l'uomo più ricercato al mondo viveva a 8 chilometri da casa quasi come un uomo qualunque. Lo scorso dicembre l'approvazione del progetto esecutivo da parte della Giunta Municipale di Marsala a fine gennaio, la gara d'appalto e l'aggiudicazione dei lavori. Tempi celeri per la scuola Caimi su cui l'amministrazione Grillo investirà 220 mila euro per la messa in sicurezza con interventi antisismici. Il progetto inserito nel programma triennale delle opere pubbliche con un emendamento proposto e approvato dal Consiglio Comunale sarà realizzato dall'impresa CG System SRL. Complessivamente si prevede un intervento di adeguamento sismico che comporterà il consolidamento in cemento armato di alcuni setti murari. Inoltre verranno rinforzati le travi e i pilastri del porticato di Piano Terra, il tutto volto a far riacquistare alla struttura la sua originaria funzione di scuola. Approvata all'alba la prima finanziaria del governo Schifani dopo una maratona durata 19 ore. Il voto finale è arrivato dopo il via libera a due maxi emendamenti e a un lungo elenco di norme aggiuntive. Finanziaria approvata dunque dall'Assemblea regionale siciliana poco prima delle 6, dopo oltre 19 ore di lavori d'aula non stop. È la prima legge di stabilità del governo Schifani, confermata la norma sugli adeguamenti istat delle indennità per i 70 parlamentari siciliani. L'Assemblea regionale ha respinto con voto segreto l'emendamento che prevedeva all'abrogazione della norma della legge che nel 2014 aveva introdotto l'automatismo della rivalutazione delle indennità al costo della vita. L'emendamento al disegno di legge di stabilità in discussione era stato presentato alla luce delle polemiche per gli 890 euro lordi in più in busta paga per gli onorevoli che percepiranno quest'anno. I lavori sono stati condotti dal presidente dell'Ars, Gaetano Galvagno. Sono stati 38 i voti a favore, 24 i contrari. Una riunione di giunta, mordi e fuggi per portare a termine la variazione di bilancio precede l'ultimo voto che chiude la maratona d'aula, quello per il bilancio. Arriva il sì dell'aula e il governo Schifani incassa anche questo risultato. Accelerare il lavoro di messa in sicurezza nel minore tempo possibile e riaprire il ponte sul fiume Arena. Lo chiede la deputata regionale Cristina Ciminisi del Movimento 5 Stelle con un'articolata interrogazione sui lavori del ponte sul fiume Arena di Mazzara del Vallo. Ciminisi, nell'atto ispettivo rivolto al presidente della regione e dell'assessore regionale alle infrastrutture, ricorda che da anni la comunità mazzarese attende la fine dei lavori appaltati nel novembre del 2020 dal Libero Consorzio dei Comuni. Tra faraginosità burocratiche e amministrative, rinvii, aperture e chiusure a salvaguardia della pubblica incolumità, i lavori sono iniziati solo nel maggio del 2022. Il traffico tra Mazzara e Torretta Granitolo è stato dirottato nel frattempo su tortuosi e pericolosi percorsi alternativi con vivaci proteste da parte dei cittadini mazzaresi. Cimitero di Mazzara Alvia e lavori di estumulazione dei reparti 16, 17 e 28. imminente l'avvio dei lavori dei reparti 25 e 26 per un totale di oltre 750 loculi occupati da oltre 50 anni. Il servizio. Sono stati avviati nei giorni scorsi e si completeranno entro marzo i lavori di estumulazione dei reparti numero 16, 17 e 28 dell'ala storica del cimitero comunale di Mazzara, mentre è imminente l'avvio dei lavori di estumulazione dei reparti 25 e 26 per un totale di oltre 750 loculi occupati da oltre 50 anni, per i quali gli eredi non hanno richiesto il rinnovo delle concessioni e che verranno liberati adeguati nelle misure e resi disponibili. Le salme dei loculi oggetto di estumulazione verranno collocate in apposite singole cassette con indicazione nominativa e ubicate nell'apposita area cimiteriale. Lo rende noto l'assessore comunale ai servizi cimiteriali Michele Reina. Inizieranno tra qualche giorno anche i lavori di estumulazione dei reparti 25 e 26 per un totale di circa 250 loculi. Tutti gli interventi si concluderanno entro il mese di marzo. Questa nuova tranche di lavori si aggiunge a quelli già effettuati nei mesi scorsi e che hanno interessato i reparti 9 e 29 con circa 360 loculi resi disponibili. Per quanto riguarda invece la realizzazione dei lavori di ricostruzione dei reparti 2 e 6 dove verranno collocati 710 nuovi loculi cimiteriali a seguito della procedura d'appalto gli interventi sono prossimi all'avvio. Ruspe di nuovo in azione a Marausa saranno infatti demolite altre 8 case abusive che erano finite nel mirino dell'ufficio tecnico del comune di Trapani prima che la frazione balneare entrasse a far parte del nuovo comune di Misiliscemi. I proprietari avevano già ricevuto le ingiunzioni di demolizione e stanno provvedendo ad abbattere gli edifici per non incorrere in una multa da 20.000 euro. Mazzara senza acqua potabile, raccolta firme per la realizzazione di un denitrificatore e apertura di uno sportello informativo a cura del Comitato Cittadino per la tutela delle risorse idriche e ambientali del territorio. Sentiamo. Il Cocriam, Comitato Cittadino per la tutela delle risorse idriche e ambientali del territorio di Mazzara del Vallo, informa che è stato aperto nei locali adiacenti la chiesa di San Giuseppe, gentilmente messi a disposizione della comunità parrocchiale della cattedrale, uno sportello informazioni per tutti i cittadini che volessero avere notizie aggiornate sullo stato dell'acqua in distribuzione in città. Lo sportello sarà fruibile domani dalle ore 18 alle ore 20. La campagna di sensibilizzazione prevede la raccolta firme per la realizzazione di un denitrificatore, quale soluzione al problema dei nitrati nella città di Mazzara del Vallo. Verrà presentata inoltre la campagna nazionale Riprendiamoci il Comune, promossa da decine di organizzazioni e movimenti sociali, fra cui il Forum per i movimenti dell'acqua, che punta a raccogliere nei prossimi sei mesi 50.000 firme a sostegno di due proposte di legge di iniziativa popolare per la riforma della finanza locale e la ripubblicizzazione della cassa depositi e prestiti. Anche per questa campagna continua la raccolta firme. Infine sarà messo a disposizione di tutti i cittadini il materiale informativo, sia cartaceo che audiovisivo. Esperti risponderanno a domande specifiche dell'utenza. Le immagini e le registrazioni audio di quanto avvenuto venerdì scorso in acque internazionali a quattro pescherecci siciliani rilevano una situazione inaccettabile. L'Italia che cede alle pressioni dei guardiacoste libici. Lo dice l'eurodeputato Pietro Bartolo, componente della Commissione Pesca al Parlamento europeo, sottolineando la gravità dell'accaduto. Per ammissione della stessa marina italiana, i pescherecci si trovavano in acque internazionali. Avevano tutto il diritto di gettare le reti in mare, ma la stessa marina militare dice loro di allontanarsi e seguire le direttive impartite dai libici. Attiva la bilancia pesa rifiuti all'interno del centro comunale di raccolta di Campobello di Mazzara. Consentirà di ottenere uno sconto sull'Atari, il servizio. Da qualche giorno all'interno del centro comunale di raccolta rifiuti in Piazzale De Nicola è attiva la bilancia pesa rifiuti differenziati che consentirà di ottenere uno sconto sull'Atari. Lo rende noto il sindaco Giuseppe Castiglione informando la cittadinanza che da lunedì scorso è già possibile usufruire di questo nuovo e importante servizio che appunto consentirà di pesare i rifiuti differenziati, carta, cartone, plastica, vetro e metalli, abbattendo la parte variabile della tassa sui rifiuti sino al 30%. Importante sarà differenziare correttamente i rifiuti che saranno controllati prima della pesatura. Il CCR osserva i seguenti orari di apertura al pubblico. Periodo invernale 21 settembre 20 giugno, martedì e sabato dalle ore 7.30 alle 13.30 e giovedì dalle 13.30 alle 19.30. Periodo estivo dal 21 giugno al 20 settembre, lunedì, martedì e sabato dalle 7.30 alle 13.30, giovedì dalle 13.30 alle 19.30 e domenica dalle 8.30 alle 12.30. E' invece possibile conferire i rifiuti RAE da apparecchiature elettriche ed elettroniche il sabato mattina dalle 8.30 alle 12 all'esterno del CCR. Questo nuovo servizio, afferma il Sindaco Castiglione, che abbiamo garantito all'interno del Centro Comunale di Raccolta, aperto nel mese di dicembre scorso, costituisce sicuramente un ulteriore incentivo per i cittadini a differenziare sempre meglio e sempre di più. Sin dal primo momento, la nostra amministrazione comunale ha infatti lavorato intensamente al fine di migliorare sempre di più il servizio di raccolta dei rifiuti, con l'obiettivo di incrementare la percentuale di differenziata. Approvata la Carta dei Servizi del Libero Consorzio Comunale di Trapani. Ascoltiamo. Il commissario straordinario del Libero Consorzio dei Comuni di Trapani, il dottore Raimondo Cerami, comunica che con proprio provvedimento è stata approvata la Carta dei Servizi e degli Standards di Qualità dell'ente. Si tratta di un importantissimo strumento, grazie al quale il Libero Consorzio dei Comuni di Trapani ha raccolto in un unico documento tutte le carte dei servizi dei vari settori, offrendo una guida pratica ai cittadini che accedono ai servizi erogati dall'ente. In questo modo i cittadini potranno anche esercitare un controllo sulla qualità dei servizi erogati dall'ente attraverso le indagini di Customer Satisfaction che l'ente svolgerà tra i suoi stakeholders, nonché attivando le procedure di reclamo sull'operato della pubblica amministrazione. Il commissario straordinario Cerami dichiara pertanto di essere molto soddisfatto del raggiungimento di questo obiettivo che aggiunge un altro tassello in materia di qualità dei servizi che l'ente eroga al cittadino e che attesta l'impegno dell'intera struttura burocratica dell'ente per consegnare al territorio una pubblica amministrazione sempre più aperta ai cittadini. L'ASP di Trapani al fine di fronteggiare la carenza di personale medico negli ospedali del territorio trapanese ha avviato una partnership con l'Associazione Medici di Origine Straniera in Italia e il Movimento Uniti per Unire che riuniscono i medici iscritti agli ordini dei medici italiani e gli operatori sanitari di origine straniera operanti in Italia che provengono dalle più svariate località del mondo monitorando in tempo reale la situazione della sanità Le figure professionali richieste sono dirigente medico di medicina d'urgenza pronto soccorso dirigente medico di medicina generale dirigente medico di cardiologia Il bando è pubblicato e consultabile sul sito aziendale www.asptrapani.it I dipendenti SEUS 118 avranno buoni pasto e tempo tuta lo ha deciso il CDA Sentiamo Via libera dal nuovo CDA della SEUS Sicilia Emergenza Urgenza Sanitaria a due istituti contrattuali che erano attesi da tempo dai dipendenti della società consortile che cogestisce il 118 in Sicilia Saranno garantiti per la prima volta infatti sia i buoni pasto che il riconoscimento all'interno dell'orario di lavoro del cosiddetto tempo tuta al personale che ne ha diritto I componenti del Consiglio di Amministrazione hanno comunicato ufficialmente ai sindacati che è disponibile la somma per procedere al pagamento dei buoni pasto relativi al 2023 e all'arretrato 2022 così come previsto dal recente nuovo contratto di servizio triennale siglato tra SEUS e Regione Inoltre la SEUS così come stabilito dalla normativa in materia considererà all'interno dell'orario di lavoro pure il tempo impiegato 14 minuti per indossare la tuta prima di svolgere l'attività lavorativa e di smetterla a fine turno Il presidente Riccardo Castro sottolinea I lavoratori della SEUS assolvono ai propri doveri quotidianamente con grande professionalità e spirito di sacrificio salvando centinaia di vite umane Il nuovo CDA pertanto è orgoglioso di avere accelerato e portato a compimento l'ITER per riconoscere loro due diritti che attendevano da anni Infine durante il CDA è stato dato il via libera alla pubblicazione della gara per il prossimo affidamento del servizio di assicurazione dei mezzi di soccorso Esprimo grande soddisfazione per l'inserimento nel piano di stabilizzazione dei dipendenti amministrativi delle strutture sanitarie Mi riferisco all'approvazione al Senato del relativo emendamento è il giusto riconoscimento per il grande contributo che hanno offerto per garantire ai cittadini un servizio primario come quello della salute in una congiuntura drammatica qual è stata la pandemia Già alla camera in sede di esame del bilancio avevamo presentato un ordine del giorno in tal senso approvato dalla camera con parere favorevole del governo Si tratta di figure professionali che hanno maturato esperienze e di cui vi è grande bisogno e che hanno dato grande prova alla pari di quella dei medici e degli operatori sanitari Lo dice l'onorevole Saverio Romano L'associazione culturale Arrabbanna Luponti organizza il Carnevale 2023 che si svolgerà nella zona Trasmazzaro nella città di Mazzara del Vallo nei giorni 16, 18, 19, 20 e 21 febbraio Ieri la conferenza stampa di presentazione Ascoltiamo le interviste a Rosa Castelli, Gianfranco Campisi e l'assessore Germana Abbagnato Un carnevale pieno di divertimento sicuramente un carnevale di gioia e di allegria grazie all'associazione culturale Arrabbanna Luponte Abbiamo qui la rappresentante, il presidente dell'associazione Rosa Castelli Noi non abbiamo nessuna, la nostra aspettativa è quella di far divertire la gente perché tutti abbiamo bisogno di un pochino di serenità e di divertimento ce la stiamo mettendo a tutta e ci divertiremo sicuramente Quanti carri ci saranno e quali saranno i temi? Allora i carri saranno due, i temi sono la famiglia Adams e la Marvel Il percorso sarà allora, la partenza per il giovedì sarà da via Favara Scurto e poi proseguirà dalla via San Pietro, via Bessarione e si ritorna via Emanuele Sansone dove ci sarà l'area Spettacoli quindi ci saranno poi dalle 21.30 i gruppi che si serviranno ogni giorno dal vivo e il pomeriggio tutto parte dalle 16.30 in poi, mi raccomando tutti in maschera Sappiate che tutto questo è stato realizzato grazie a dei sacrifici della nostra associazione perché tutta gente che di giorno lavora la sera si spende trascurando le proprie famiglie, trascurando il tutto per arrivare a questo risultato gente che la sera fino a mezzanotte, l'una di notte lavora e anche perché è un'associazione che è formata da gente semplicemente che lavora Sì, allora innanzitutto bisogna dire che finalmente dopo due anni di stop torniamo alla quasi normalità quindi questo è prima di tutto il primo segno bellissimo per questa città e per tutto il nostro Stato italiano Che dire, noi siamo veramente contenti che l'Associazione Giabanna Luponte abbia deciso di rimettersi in pista con il Carnevale e di riproporre ancora una volta per la città di Mazzara del Vallo la sfilata dei carri allegorici noi come amministrazione, il sindaco in primis non possiamo che ringraziarli del loro lavoro e del loro impegno ricordiamo che si tratta di persone, di lavoratori che dedicano il loro tempo libero ad un'attività che animerà la città di Mazzara del Vallo le strade dopo il Trasmazzaro nelle giornate del 16, del 18, del 19 e del 20 febbraio quindi grazie a loro Mazzara del Vallo avrà un Carnevale di tutto rispetto Riprende dopo una settimana di riposo il campionato di Serie D di pallavolo femminile con una gara che mette di fronte le mazzaresi della Vigor Progetto Volley contro il Cinisi si tratta di una gara dal risultato incerto e anche se all'andata le mazzaresi hanno vinto 3-2 a Cinisi ci sarà da lottare per portare a casa la vittoria la partita si giocherà domenica con inizio alle ore 17.30 presso la palestra grassa di Mazzara e dopo il turno di riposo dello scorso weekend sabato il futsal Mazzara tornerà all'inseguimento della capolista Carini rincorsa che parte dal derby casalingo contro il Marsala l'appuntamento è per domani sabato 11 febbraio alle ore 16.30 al palazzetto dello sport di Mazzara si ricorda che l'ingresso è gratuito e che ciascun tifoso con la propria presenza al palazzetto potrà concorrere alla vittoria del premio settimanale messo a disposizione da uno sponsor L'imprenditore trapanese Andrea Bulgarella è il nuovo azionista di maggioranza della Lucchese la storica squadra di calcio di Lucca che milita in serie C Sentiamo Bulgarella, Noi TV Lucca Allora, è fatta? È fatta Abbiamo il presidente, il dottor sportivo io sono qua per dare una mano Avete nel comunicato detto arriviamo con tanto entusiasmo qui a Lucca È normale se uno bisogna crederci abbiamo una grande responsabilità perché una squadra di calcio non è un'azienda privata è un'azienda di tutti soprattutto dei tifosi della città quindi è doppia responsabilità ecco in questo senso se uno ci crede e ha entusiasmo ha voglia e fa impresa può fare belle cose C'è una cosa particolare che l'ha fatta scegliere Lucca? Intanto è una città meravigliosa la gente che ho conosciuto e che conoscevo sono delle persone per bene e poi è nella zona dove io lavoro la Versilia, Pisa spero di lavorare anche in zona quindi è un po' il mio territorio cosa si sente di dire a questi tifosi che sono qui stasera? a parte i dirigenti ci sono tanti tifosi questo è il cuore del tifo rosso nero anch'io devo diventare un tifoso bisogna sognare e bisogna crederci grazie prego venga e nel weekend si giocherà la ventunesima giornata del campionato di calcio di eccellenza Sicilia tutti gli incontri inizieranno alle 15 ed ecco le gare in programma domani sabato 11 febbraio 2023 Cus, Palermo, Resuttana, San Lorenzo Castellammare, Mazzara Parmonval, Marineo domenica 12 febbraio invece Acragas, Sciacca Enna, Don Carlo, Misilmeri Gela, Leonfortese Profavara, Casteldaccia Mazzarese, Nissa, FC e per oggi è tutto io come sempre vi ringrazio per averci seguito vi ricordo prima di concludere che potete seguirci sempre sulla nostra pagina ufficiale su Facebook e sul sito web di Teleotto a voi tutti un buon fine settimana e ci rivediamo la prossima settimana